Un ecocalendario per il 2022 biodegradabile e riciclabile realizzato dagli alunni dell'istituto comprensivo Carducci con il contributo della scuola dell'infanzia, della primaria e delle medie. Un progetto che nasce grazie alla collaborazione proposta da SM e dal settore ambiente del comune alla scuola. La realizzazione del calendario è stata un modo per sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell'ambiente e al riciclo, fatto in allegria ma con consapevolezza, insegnamenti acquisiti da riportare poi anche in famiglia per alimentare le buone abitudini. Alla presentazione avvenuta in forma ristretta nel cortile della scuola dei Amicis c'erano alcuni alunni della primaria con i docenti, tra i quali quella responsabile del progetto, la dirigente scolastica Agata Nonnati, l'assessore comunale Fabrizio Taranta e l'amministratore unico di SM, Elan Franco Massimi. Io spero che questo progetto sia solamente un inizio nuovo di collaborazione e di comunicazione per la nostra azienda che tanto ha bisogno di partire dai piccoli per stimolare, per affondare le radici proprio nei cittadini del futuro della cultura della differenziata. Un lavoro importante che parte dai bambini, che mira alla qualità della raccolta differenziata ovviamente è sulla linea del calendario che abbiamo, speriamo di poter ripetere questa iniziativa con tutte le scuole e portare all'interno di tutte le case una visione diversa, nuova, che parte dai bambini e che educa a partire da loro anche i genitori. I bambini erano molto motivati ad affrontare questo argomento e hanno espresso i loro pensieri attraverso diverse forme, quindi utilizzando il fumetto, i disegni, la scrittura creativa e noi docenti li abbiamo accompagnati in questo percorso dove ognuno ha dato il meglio e nel calendario sono presenti tutti i lavori dei bambini visibili non soltanto all'interno della pagina mensile ma anche nel QR code.